Il tema dei vampiri è uno dei più longevi delle produzioni letterarie e cinematografiche. Dal Dracula di Stoker e il libro di Polidori si è arrivati fino alle produzioni giovanili di Stephenie Meyer con la saga di Twilight. Nel mezzo molte varianti, spaventose o parodistiche, come il gustoso Per favore non mordermi sul collo di Roman Polanski. Però mai abbiamo sentito parlare alcun esponente dei Principi delle Tenebre in vernacolo toscano. Ebbene, questa carenza avrà fine venerdì sera, quando alle 21.30 sul palco del Teatro Masaccio andrà in scena a San Giovanni Succhiello Vampiro Modello, uno spettacolo creato dalla compagnia degli squinternati e la cui organizzazione tecnica è affidata al Lions Club Valdarno, che approfitterà dell'incasso della serata per uno scopo benefico, ovvero la donazione della somma all'Associazione Valdarnese Genitori Ragazzi Handicappati per l'acquisto di un mezzo di aiuto ai giovani disabili. Ancora una volta dunque si fa sinergia per uno scopo benefico, con l'interesse che deriva da una commedia decisamente originale rispetto anche alle classiche ambientazioni contadine delle produzioni in vernacolo. Per conoscere dunque Succhiello, il vampiro modello, l'appuntamento è per venerdì sera al Masaccio.